Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a Gian Maria e direi non possiamo parlare di estrazione di cataratta in miope elevato senza accennare a un famoso oculista vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 che corrispondeva al nome di Vincent Fucala. Molti di voi lo conoscono, era un chirurgo versatile, anche uno storico dell'oftalmologia, ma è stato il primo che ha introdotto il concetto di estrarre il cristallino anche non catarattoso nei giovani ipermiopi a scopo fondamentalmente, diciamo, refrattivo e quindi questa tecnica è stata poi ripresa da altri autori e tuttora si discute se questa tecnica possa non essere utilizzata ma sicuramente il Fucala è stato il primo chirurgo refrattivo della storia dell'oftalmologia. Detto questo, diciamo che l'estrazione di cataratta nel paziente miope può dare veramente risultati eccezionali, ma ciò non toglie che la chirurgia sia una chirurgia complessa che deve essere eseguita attentamente in fase pre-operatoria, intra-operatoria e anche nella fase post-operatoria. Una prima osservazione a proposito del consenso informato. Soltanto il 69% dei pazienti ipermiopi operati di cataratta presentano un target refrattivo entro una diottria in più o meno rispetto al valore che noi vogliamo raggiungere. Vuol dire che il 31% dei pazienti operati ipermiopi hanno una variazione rispetto al target refrattivo richiesto anche di tre diottrie. Questo fatto, diciamo, metterebbe attenzione e potrebbe spingerci a mettere nel nostro consenso informato particolari indicazioni riferite ai pazienti ipermiopi per non avere poi problemi di tipo medico legale successivamente all'intervento. Comunque, noi sappiamo che la cataratta di ipermiopi è una cataratta che può essere corticale posteriore o sottocapsulare posteriore fondamentalmente. Ma qualunque sia il tipo di cataratta è fondamentale la fase pre-operatoria. Il paziente ipermiopi deve essere esaminato in midriasi massimale non soltanto a livello del polo posteriore ma anche e soprattutto a livello della periferia retinica. Perché pur sapendo che l'indicazione a un trattamento profilattico di lesioni regmatogene retiniche si è andato via via riducendo nel corso degli anni esiste tuttora una serie di lesioni che dovevano essere mandatoriamente trattate in fase pre-operatoria o successivamente all'intervento di cataratta. Detto questo, un esame attento del fondo ci permette anche di riconoscere delle patologie concomitanti retiniche che potrebbero essere trattate insieme con l'estrazione di cataratta, quindi pacri maculari o fuori maculari. Come calcolare la IOL? La IOL va calcolata fondamentalmente utilizzando un interferometro a coerenza ottica che ci permette di valutare con precisione il risultato refrattivo. Se questo non è possibile, se non possiamo utilizzare lo IOL master, dobbiamo utilizzare una scan che però non deve essere a contatto ma è di immersione. In questo caso però il famoso angolo K non può essere misurato e in effetti utilizzando questa tecnica la variazione rispetto al risultato refrattivo da noi voluto può essere maggiore. Può essere interessante eseguire nei pazienti per miopi anche un BISCAN per valutare l'ampiezza dello stati loma postico ed anche valutare la profondità della camera anteriore perché potrebbe essere importante conoscere anche l'ampiezza della camera anteriore per migliorare il risultato refrattivo. La topografia corneale deve essere utilizzata in tutti i pazienti che sono stati sottoposti precedentemente a chirurgia refrattiva e anche un OCT della camera anteriore può essere importante sia per valutare la profondità della camera anteriore ma anche per valutare eventuali sublussazioni del cristallino catarattoso. La pupillometria non viene quasi mai utilizzata c'è da ricordare però che nei pazienti ipermiopi giovani il diametro pupillare può essere veramente notevole e quindi conoscere la dimensione della pupilla può prevenire spiacevoli effetti di diplopia o di abbagliamento a cui questi pazienti possono andare incontro in fase post-operatoria. Quali sono le formule che possiamo utilizzare per avere una maggiore precisione nel calcolo della nostra IOL? Direi che in tutti i pazienti che hanno una lunghezza assile superiore a 24-25 mm la SRKT o la HOLID-2 sono le più precise mentre la camera in calossi è fondamentale in tutti i pazienti che hanno avuto una chirurgia refrattiva precedente all'estrazione di cataratta. Per quanto riguarda le medicazioni preoperatorie diciamo ogni chirurgo ha le sue preferenze e direi che è fondamentale utilizzare un farmaco antinfiammatorio e uno steroideo sia nella fase preoperatoria che post-operatoria non solo per prevenire la miosi o per favorire una maggiore analgesia o ridurre l'infiammazione post-operatoria ma fondamentalmente per ridurre l'incidenza dell'edemocistoide maculare che sappiamo in questi pazienti essere particolarmente frequente. Per quanto riguarda l'anestesia ogni chirurgo ha la sua preferenza diciamo che nei pazienti per miopi quasi sempre il bulbo è ben esposto e quindi un'anestesia topica eventualmente rinforzata con l'intracamarulare è sufficiente a eseguire un ottimo intervento. Per quanto riguarda la capsuloressi direi che la capsuloressi deve essere anche in questi pazienti quella classica che utilizziamo sempre di 5,5 mm. Sappiamo che una pressi troppo piccola favorisce una fimosi post-chirurgica o una capsuloressi decentrata ci complica molto l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per quanto riguarda una pressi troppo grande cioè una pressi di 6,5 mm può avere degli aspetti positivi e alcuni aspetti negativi. L'aspetto positivo è che lavorando con una pressi così ampia possiamo anche decidere di lussare in nucleo o in camera anteriore e lavorare a livello del piano rideo riducendo lo stress capsulare e zonurare. E chiaramente una pressi molto ampia riduce la possibilità di avere una fimosi. Ma i problemi invece collegati a una pressi troppo grande sono dovuti fondamentalmente a due cose. Una, una maggiore incidenza di una PCO perché una pressi ampia determina uno spostamento in avanti del piano della IOL e quindi favorisce la prolifrazione cellulare tra il piano della IOL e la capsula posteriore. E poi diciamo che una resi troppo ampia favorisce una sublussazione un'antroposizione della IOL con un aumento del potere diotrico della IOL stesso e una miopizzazione del risultato refrattivo che noi abbiamo cercato. Tutti gli occhi ipermiopi hanno tendenzialmente una lassità della zonula. Questa lassità della zonula può essere evidenziata in fase preoperatoria osservando un possibile sublussazione o tilting del cristallino catarattoso. Talvolta però questa osservazione non viene fatta e noi ci troviamo a scoprire ad avere una zonula debole al momento in cui eseguiamo la resi anteriore. Come ce ne accorgiamo? Nel momento in cui cerchiamo di incidere la capsula anteriore osserviamo come una sorta di maggiore elasticità della capsula ma non è la capsula che è più elastica è tutto il piano lenticolare che si muove quando noi cerchiamo di inciderlo. E poi quando una volta formato il flap cerchiamo di girare il flap talvolta abbiamo proprio un movimento concomitante diciamo di tutto il cristallino con il margine esterno della resi che si muove insieme con il flap che noi cerchiamo di creare. E per questo motivo è importante dedicare particolarmente tempo alla idrodissezione e alla idrodelineazione. Queste due manovre ci riducono diciamo i tempi di facomulsificazione e quindi stressano di meno il sacco capsulare. In termini generali diciamo che la tecnica quadranti è la meno indicata perché utilizzando una cioppa una cioppa pura con una cioppa orizzontale o verticale riusciamo a ridurre diciamo lo stress zonulare. Altra cosa importante è che se la corticale ha difficoltà a essere asportata con la tecnica della viscodelineazione riusciamo a creare uno spazio tra la capsula posteriore che può essere flaccida e che facilmente si ingaggia o nella punta del faco o nella punta della IA utilizzando un viscoelastico possiamo stabilizzare la capsula posteriore e riuscire ad asportare la corticale in tempi brevi. Attenzione deve essere posta anche a ridurre l'eccessivo approfondimento della camera anteriore per poter ottenere questo scopo dobbiamo cercare di lavorare con un'infusione ridotta rispetto ai parametri normali per evitare che ogni volta che si entra in camera anteriore con un falco musificatore si abbia una sorta di retropulsione di tutto il piano lenticolare che ci rende anche poi difficile la manovra di faco musificazione stessa quindi direi che i consigli che possiamo dare ai giovani chirurghi sono quelli di lavorare con un'infusione più bassa del normale per evitare l'approfondimento eccessivo della camera anteriore lavorare molto di idrodissezione idrodelineazione per ridurre i tempi di faco musificazione usare diciamo essere molto delicati in tutte le manovre ed essere pronti per ridurre lo stress zonulare a portare anche in nucleo la corticale a livello del piano erideo e lavorare in camera anteriore aumentando ovviamente il rischio di danni endoteliali ma riducendo la possibilità di avere danni a livello della capsula se abbiamo poi nel corso di intervento una sublussazione di tutto il sacco possiamo fissarlo con le strutture diciamo in prolene ma per prevenire questo evento possiamo già cominciare a lavorare utilizzando i retrattori dell'idere che vengono inseriti in corrispondenza dell'arresti circolare continua e servono per supportare tutto il sacco capsulare durante l'intervento oppure utilizzare questi simpatici ancorotti in plastica che si inseriscono nel sacco e vengono poi strutturati alla sclera o gli anelli tensionali specialmente quelli disegnati da cioni che possono essere anche comprati in frammenti diciamo in frazioni che possono essere poi strutturati a livello sclerale per finire alcune indicazioni generali sull'utilizzo della IOL le lenti accomodative abbiamo già sentito dal dottor Franchini non funzionano in questo caso assolutamente non hanno una logica le diciamo multifocali refrattive o difrattive ipoteticamente possono essere utilizzate ma poi vedremo perché è meglio non usarle le tori che sicuramente possono essere utilizzate se l'astigmatismo è superiore una diota e mezzo e restano poi last but not least le monofocali siano esse monopezzo o tre pezzi direi che a mio avviso ma non soltanto a mio avviso anche di Olsen e un sacco di altri autori americani tuttora negli pazienti per miopi la lente di scelta è la monofocale per vari motivi uno perché ci permette poi un'osservazione del fondo ottimale e in caso di interventi a livello vitroretinico ci permettono di eseguire l'intervento meglio e poi perché essendo la refrazione da noi richiesta talvolta diciamo non precisa l'utilizzo di una multifocale in parte viene poi è inutile utilizzare una multifocale se la refrazione non è quella che noi desideriamo e quindi direi che a mio modo di vedere tuttora la lente più indicata nei pazienti per miopi è la a tre pezzi monofocale e con questo ho concluso spero di essere rimasto nei tempi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti